Ben trovati a tutti a un nuovo appuntamento con il Tg dedicato alla sicurezza sul lavoro realizzato in collaborazione con l'Anmil. In apertura parliamo ancora purtroppo di morti bianche perché continua la strage degli incidenti sul lavoro. La settimana scorsa hanno infatti perso la vita 9 persone, Sicilia e Lombardia, le regioni più colpite, le vittime avevano un'età compresa tra i 21 e i 46 anni e tre di loro sono morte in seguito ad una folgorazione. Anche il Pontefice chiede più sicurezza sul lavoro e rispetto per la sacralità della vita. Dopo l'Angelus di domenica scorsa Benedetto XVI ha voluto richiamare solennemente l'antezione sulla tragedia di Viareggio affermando che queste tragedie non devono ripetersi e va garantita a tutti la sicurezza sul lavoro e nello svolgimento della vita quotidiana. Mi unisco al dolore di quanti hanno perduto persone care, sono rimasti feriti o hanno subito danni materiali anche gravi, ha detto il Pontefice. I morti e i feriti di martedì scorso per Papa Ratzinger devono rappresentare un richiamo alla responsabilità di quanti vigilano sulla sicurezza sul lavoro e nella vita quotidiana dei cittadini. Al monito lanciato dal Papa si è subito associato il Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo. Occorre una risposta forte e univoca all'appello lanciato oggi da Benedetto XVI, ha detto Marrazzo, non sono più tollerabili incertezze nelle garanzie per la sicurezza sul lavoro. Parliamo del trasporto pubblico gratuito per i ragazzi laziali con difficoltà economiche. Dal primo settembre i ragazzi residenti nel Lazio, sia studenti che lavoratori, con un'età compresa tra i 10 e i 25 anni e un reddito inferiore ai 20.000 euro all'anno, avranno la possibilità di viaggiare gratuitamente a bordo dei mezzi pubblici di trasporto locale e regionale. Il provvedimento contenuto nella delibera di giunta approvata lo scorso 29 maggio dovrebbe interessare, secondo le stime della Regione su base Istat, più di 300.000 giovani. Per gli studenti e i lavoratori l'esenzione coprirà la tratta che va dal comune di residenza, luogo di studio o di lavoro, anche se questo si trova in Regioni Lemitrofe. Sulla home page del sito della Regione Lazio sarà possibile compilare la domanda attraverso il SISET, il sistema informativo di erogazione dei servizi di esenzione del trasporto pubblico regionale, che dovrà essere inoltrata online e allo stesso tempo stampata e presentata al comune di residenza. Nasce a Roma la prima banca dati per avviare al lavoro le persone con disabilità, un percorso formativo su misura per ciascun allievo del centro di formazione professionale perché venga avviato al lavoro nel modo più veloce. È nata così al centro di formazione professionale del comune di Roma la prima banca dati per disabili che ha come obiettivi l'unificazione delle informazioni relative agli allievi e la descrizione del percorso formativo di ognuno. Con la banca dati, gli operatori riescono a gestire e seguire il disabile attraverso il piano formativo individualizzato, con particolare attenzione agli elementi che distinguono e qualificano il percorso dell'allievo durante la formazione ma anche dopo il conseguimento del diploma. Va in scena la storia di 157 operai del petrolchimico di Marghera, morti di tumore e quelle di altri 103 malati a causa del contatto prolungato con una sostanza cancerogena insieme al rogo della Thyssen Group di Torino. Debutta sabato 11 luglio a Roma con il patrocinio del segretariato sociale della RAI, lo spettacolo teatrale dal titolo C'era il mare che vedrà impegnata la compagnia Quattro Cambi diretta da Francesco Proietti in un testo originale di Andrea Loreti. Si tratta di un progetto di teatro civile che prende spunto da storie vere alternando momenti di denuncia, di drammaticità e di leggerezza arricchiti da filmati d'epoca, da contributi audio e dalle testimonianze reali dei familiari delle vittime del petrolchimico. Lo spettacolo è previsto per sabato 11 e domenica 12 luglio al Teatro della Forma in via della Primavera 317. L'ingresso è a sottoscrizione libera e gli introiti saranno devoluti in beneficenza. Per informazioni e prenotazioni basta telefonare al numero 06 97 61 2703. A Foggia nasce Lego, un centro polifunzionale per persone con disagio realizzato dalla cooperativa Med Training Onlus e finanziato dalla Regione Puglia. nell'ambito delle azioni piccoli sussidi, disabili, ex tossicodipendenti, disoccupati da lungo periodo, giovani in cerca di occupazioni, ex detenuti e immigrati sono tra i destinatari dei servizi e delle attività previste all'interno del centro. Tutte le attività mirano al potenziamento delle capacità, delle competenze degli ospiti attraverso percorsi informativi e percorsi formativi direttamente spendibili nel mercato del lavoro. Inoltre molti servizi saranno orientati alla promozione della cultura delle pari opportunità, della solidarietà e della partecipazione. E questa era l'ultima notizia del nostro Tg dedicato alla sicurezza sul lavoro. Io vi ringrazio come ogni puntata per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Grazie.